Adesso la bomba JASIP potrebbe esplodere davvero. La soluzione annunciata due sere fa dal governatore Lombardo per tenere in vita la società a 10 milioni di fondi CIP per garantire una proroga della vecchia ordinanza di protezione civile firmata a luglio scorso dall'ex premier Silvio Berlusconi, naufraga almeno al momento. Ieri pomeriggio, mentre i sindacati davano per certa la prosecuzione dei servizi, la protezione civile nazionale guidata da Franco Gabrielli ha deciso di bloccare la proroga del provvedimento che l'estate scorsa tenne in vista la moribonda JASIP. A luglio vennero stanziati 45 milioni in nome dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Lombardo era pronto a sganciare un nuovo assegno, ma la strada per garantire la tregua nel periodo elettorale è sbarrata. Ieri a Roma, nella sede della protezione civile, si è riunito un tavolo al quale ha partecipato il commissario Luisa Latella insieme con il capo di gabinetto del comune Sergio Pollicita. Alla riunione c'era collegato in videoconferenza pure il presidente Lombardo e sua infatti la disponibilità dei 10 milioni di fondi Cipe che avrebbero dovuto garantire una prosecuzione dell'affidamento dei servizi alla JASIP per un paio di mesi, ma è arrivato lo stop. Sui motivi le bocche sono cucite, ma dietro il niet ci sarebbero i forti dubbi del governo ad autorizzare, in assenza di un piano di risanamento, l'utilizzo di altri 10 milioni di euro per una società in perdita. Di certo c'è che il tavolo è saltato e che Latella, due settimane dall'elezione, è tornata senza nulla in mano. A giorni dovrebbe esserci una nuova riunione, ma intanto al comune corrono in ripare. Il dirigente del cimitero dei Rotoli, Gabriele Marchese, si è organizzato per garantire servizi attraverso i seppellitori dei Cappuccine di Santa Maria di Gesù. Ai Rotoli sono arrivati anche 31 muratori che adesso, in base alla disposizione firmata poche settimane fa dal direttore generale Fabrizio Dell'Acqua, dovranno diventare seppellitori. Li stiamo formando, dice Marchese, il problema è soprattutto per la pulizia di scuole e uffici. I dipendenti comunali, portieri e assistenti di servizi generali che, in base alle nuove disposizioni, dovrebbero imbracciare straccio e scopa sono in agitazione. Da domani resterà chiusa la città dei ragazzi e sarà sospeso il servizio di scuola bus per gli alunni disabili. In attesa di una soluzione, il neoliquidatore Giovanni Labianca ha messo 1.800 digesi più in ferie fino al 29 di aprile.